Si avvia la fase conclusiva il progetto del Comune di Chieti, Io Comprovero, che da gennaio scorso la Polizia Municipale porta avanti nell'ambito della lotta alla contraffazione, non solo dei capi di abbigliamento ma anche di prodotti alimentari e di farmaci. In un incontro con la stampa, l'assessore comunale al ramo Antonio Viola e il comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni hanno illustrato i dati del progetto promosso dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sottolineando anche che contraffazione significa anche evasione fiscale e lavoro nero. Nel periodo estivo sono stati realizzati corsi di formazione per il personale con il nucleo dei NAS sull'utilizzo dei prodotti alimentari. I controlli, ha sottolineato l'assessore Viola, serviranno anche per il futuro con una squadra appositamente preparata. Il progetto ha visto anche la realizzazione di un concorso di idee multidisciplinare per le scuole. Ai tre alunni vincitori della scuola Rossetti verrà consegnato il 15 novembre un tablet con il logo di Io Comprovero, mentre a tutte le famiglie sarà consegnato un opuscolo con la normativa sulla contraffazione. La funzione del progetto, ha sottolineato la comandante Di Giovanni, è quella di formare, informare e sensibilizzare. Anche chi acquista merci contraffatte è soggetto a sanzioni penali, l'attività della contraffazione, ha aggiunto la comandante, si esplica attraverso gli extracomunitari, ma i controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali. Noi siamo arrivati orquasi alla conclusione del nostro progetto e stiamo effettuando i controlli anche questa mattina. Comunque, allo stato attuale abbiamo fatto controlli su circa 33 esercizi commerciali. Fino adesso tutti quanti hanno dato esito negativo, nel senso che non abbiamo ravvisato assolutamente delle situazioni di contraffazione. Ci sono state situazioni un po' particolari nella consegna delle fatture che stiamo ancora visionando. Nel frattempo abbiamo effettuato quattro sequestri penali, questo tutto quanto avviene nel corso dell'anno, nel senso da gennaio, da quanto è iniziato il progetto, fino ad oggi. Il progetto del comune di Chieti è stato premiato dal lancio a Firenze, ma ha avarcato anche i confini nazionali. Una particolarità è la collaborazione con la Camera di Commercio americana, che ci ha fornito dei manifesti che portano un po' il logo nostro. E quindi il buscap americano ha riconosciuto la nostra attività come positiva.